Ciao ragazzi bentornati sul mio canale YouTube, continuo il nostro viaggio nella storia della Formula 1, vi ringrazio per tutti i feedback positivi che mi avete lasciato nei commenti dello scorso video, se non l'avete ancora visto ve lo lascio qui in sovraimpressione, abbiamo parlato della prima parte degli anni 50, quindi dal 1950 al 1954 e nel video di oggi andremo a parlare della parte finale, così chiudiamo gli anni 50 e poi ci sposteremo verso gli anni 60 e ovviamente nel mentre in queste settimane parleremo anche di questa stagione 2022 che sta per iniziare a marzo con tutte le monoposto che verranno presentate poi a febbraio, quindi se non volete perdere nessun appuntamento iscrivetevi al canale o seguitemi su tutti i social, vi lascio qui poi in sovraimpressione, Formula 1 with Carolina mi trovate davvero ovunque, oggi andremo a parlare ovviamente di questa parte finale, ma prima di partire facciamo un riassunto super veloce di quello che è successo nell'episodio precedente, ovvero vi ho messo qua di fianco chi ha vinto negli anni la Formula 1, partiamo con il 1950, abbiamo visto Nino Farina con l'Alfa Romeo, nel 51 Fangio sempre con l'Alfa Romeo, 52-53 a scarico la Ferrari 500 e nel 54 Fangio con la Maserati Mercedes V 196, partiamo quindi con il 1955, preparatevi perché questa seconda parte è molto tosta, avremo grandi gioie, ma lutti, dolori, anni bui bui della Formula 1, quindi preparatevi, 1955, in questa stagione ci sarà una Mercedes dominante, metto già le mani avanti, la loro line up è targata Fangio da una parte e Stirling Moss dall'altra, Stirling Moss preparatevi, stagnatevi il nome perché sarà un futuro vice campione per gli anni che verranno, quindi pilota inglese dall'altra parte il pilota argentino. Siamo al Gran Premio di Monaco, siamo a Monte Carlo, a scarico la sua D50, lancia, arriva in testa, quindi è lui che è detta il passo, a un certo punto perderà il controllo della sua monoposto e finirà direttamente nelle acque del porto, non lo so, oggi sarebbe una cosa quasi immaginabile, però vi farò poi vedere le immagini mentre vi racconto quello che è successo, finirà nel porto e per fortuna all'epoca, a questo punto sì, mi viene a dire per fortuna, i piloti non avevano le cinture, in questo caso è per fortuna, non avevano le cinture di sicurezza, quindi lui verrà poi sbalzato fuori dalla macchina, la macchina si inabissairà nel porto e Ascari ebbe due grandi conseguenze, la rottura del naso e dei colpi molto forti ai reni, uguale, ritiro mi sembra scontato, ma soprattutto convalescenza, verrà portato in ospedale, lo opereranno eccetera, però arrivò un problema per lui perché sapete quando si fanno degli incidenti così grandi nella propria carriera, iniziano le paturnie mentali, iniziano i dubbi della serie, tornerò competitivo come prima? Tornerò a spingere come prima? Insomma, vuoi verificare subito, andando in pista, quello che potrebbe succedere, quindi Ascari cosa fa? A convincere i medici a diciamo non fare la convalescenza e a dimetterlo dall'ospedale, questo forse sarà l'errore madornale, ma lo capiremo più avanti, adesso vedrete, e l'appuntamento successivo era quello del Gran Premio di Spa, però era troppo in là, quindi Ascari voleva toccare con mano questa situazione il prima possibile, uscito dall'ospedale prima dei tempi previsti a livello medico e coglie un'occasione importante perché prima del Gran Premio di Spa e tra il Gran Premio di Monaco, la Ferrari fece al Gran Premio di Monza, cioè all'autodromo di Monza, pardon, dei test per le loro vetture sport, quindi Ascari prese l'occasione e colse l'occasione, andò a salutare i suoi amici con i quali avevano venito tutti questi mondiali, tra l'altro loro lo chiamavano Ciccio e toccò con mano realmente le sue prestazioni, ok? Non era una macchina di Formula 1, era una macchina comunque di una vettura sport era l'ora di pranzo e in teoria tutti erano pronti per andare a mangiare, ma ovviamente si vedono arrivare Ascari e dicono no, aspetta, continuiamo a fare le prove, anche perché Ascari ci può dare dei feedback molto più approfonditi o comunque diversi, differenti, sai, lui è un due volte campione del mondo, quindi insomma, lavoriamo in pista decidono di lavorare, erano le 12.30 del 26 maggio del 1955 e Ascari perse la vita a Monza tra l'altro questa è una cosa paradossale di date perché proprio nel 1925, il 26 luglio, persa la vita Antonio Ascari, suo padre nel Gran Premio di Moltenri, quando nel 1925 c'era il Mondiale delle Marche ve l'avevo detto nel video precedente Ascari perde la vita e tra l'altro c'è un grande caos si faranno tante supposizioni nel corso dei tempi, diciamo, negli anni successivi anche in quel momento perché era l'ora di pranzo, probabilmente in pista c'era anche un po' di movimento perché c'erano gli operai che, pensando, sapete, stavano lavorando nel tracciato pensato appunto fosse l'ora di pranzo, magari si erano buttati in pista stessa e magari avevano, si erano incontrati con Ascari Ascari per non prenderli aveva impennato, aveva perso la monoposto e poi era sfrecciato fuori dalla macchina e si era schiantato sulla terra e ovviamente perse la vita in questo modo si fecero tante supposizioni anche perché poi anni successivi in punto di morte si disse, ma questo vediamo tutte quelle virgolette un operai in punto di morte disse che era stato proprio lui la causa involontaria dell'incidente di Ascari Enzo Ferrari invece sposò sempre questa opinione, questa teoria, questa causa nel senso che non avendo fatto la convalescenza in ospedale che era obbligatoria e doveva fare probabilmente Ascari guidando si era sentito male e aveva perso il controllo della monoposto, magari un'embolia comunque aveva subito un'operazione insomma, una cosa era certa che l'Italia in quel momento aveva perso una grande figura a livello dello sport un uomo che era entrato nel cuore di tutti gli italiani prima di lui c'era stato Tazio Nuvolari e da qui in poi la storia cambierà perché se prima l'Italia si legava a un pilota nelle vittorie, ovviamente anche nelle perdite ora l'Italia si legherà per sempre a un team che sarà la Ferrari quindi Ferrari pian piano prenderà sempre più sempre più piede, sempre più immagine e dopo quello che successe ad Ascari che appunto perse la vita Gianni Lancia decise di ritirarsi dal mondo della Formula 1 decise di ritirarsi perché fu uno shock talmente grande e prese una decisione di pancia, di stinto non tornò più indietro tra l'altro i suoi manager, gli ingegneri, i meccanici cercarono di fargli cambiare idea perché giustamente erano state fatte degli investimenti molto alti almeno diamo un senso a questi investimenti fatti anzi si disse anche che Lancia probabilmente aveva fatto il passo più lungo della gamma aveva investito più di quello che aveva a disposizione si è rifatto che Lancia si ritira Ascari non c'è più Lancia non c'è più e Fangio avrà una grande chance di andare a toccare con mano un nuovo titolo di Formula 1 tra l'altro proprio in casa Mercedes che vi avevo detto la line-up era Fangio e Sterling Moss proprio per tornare sempre al discorso delle motivazioni filosofo, politiche, economiche che ci sono dietro alla Formula 1 eravamo al Gran Premio di Silverstone Sterling Moss era un pilota inglese e Mercedes decise di far vincere Sterling Moss piuttosto che Fangio perché dietro c'era una motivazione di rilancio di immagini di pulizia della stessa immagine anche voglia di marketing, di pubblicità insomma anche perché era stata la Germania che anni prima aveva bombardato l'Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale di conseguenza c'era questa voglia di ripulirsi un po' e di lanciare un messaggio positivo ricordatevi Sterling Moss perché lui e Mike Hawthorne che è uno dei miei piloti preferiti e adesso parleremo di Mike in questi anni erano piloti inglesi e vi ricordo che la Formula 1 nei primi anni era una Formula 1 colorata di colori latini di piloti latini e piloti italiani l'Inghilterra non era compresa in tutto ciò ma in questi anni vedrete che prenderà piede sempre di più anche l'Inghilterra e gli stessi piloti inglesi purtroppo il 1955 non è ancora finito e abbiamo un altro tragico momento un incidente grande alla 24 ore di Le Mans il tutto causato da una macchina era una Mercedes fu talmente grande l'impatto ci furono 80 morti tra gli spettatori che la Formula 1 decise di interrompere i tre Gran Premi successivi tra i quali c'era il Gran Premio della Svizzera Svizzera dopo questo incidente decise di non entrare più in Formula 1 tra l'altro la Germania e la Mercedes decisero si sentirono talmente tanto in colpa decisero di ritirarsi dal mondo delle competizioni per due ragioni una ragione era quella sportiva l'altra era quella aziendale anche perché gli ingegneri meccanici che impiegavano nello sviluppo delle macchine poi sportive erano gli stessi che impiegavano nelle macchine di serie quindi la forza lavoro era una e volevano giustamente indirezzarla per la motivazione dell'azienda che era un'azienda che nasceva come casa automobilistica non come team sportivo la ragione sportiva invece era quella ovviamente che la Germania era entrata in Formula 1 per ripulirsi l'immagine per lanciare un certo tipo di messaggio e c'era riuscita non solo perché nel 55 finirono con nella classifica i loro due piloti erano primo e secondo quindi questo fa capire la macchina velocissima che era la V196 ma anche perché avevano già vinto dei titoli quindi l'obiettivo era stato raggiunto di conseguenza il 1955 lo vincerà Fangio con la V196 e Mercedes si ritirerà questo è anche un aspetto molto particolare perché vedete è un andare e venire da parte dei team la lancia entra in Formula 1 poi si ritira Mercedes fa la stessa cosa l'unico team che nella storia della Formula 1 una volta che è entrato non si è mai 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 ritirato è Ferrari per questo oggi Ferrari è così importante per questo sport ed è un po' il filo rosso di sottofondo di tutto quello che è successo nella storia della Formula 1 spostiamoci andiamo verso il 1956 ok ribaltiamo completamente tutte le carte in tavola ma proprio completamente una cosa importante da dire del 1956 è che la lancia si è ritirata Gianni Lancia però decise di cedere tutte le 6 monoposto la Visarca gli ingegneri meccanici Vittorio Iano figura importantissima pezzi di ricambio tutto a Enzo Ferrari Enzo Ferrari ovviamente accetta perché le arriva tutto questo purpurì di bella merce e quindi prenderà tutte le macchine da parte della lancia il 1956 tra l'altro l'anno così un po' bizzarro perché abbiamo il contratto forse che l'Italia aspettava Fangio correrà per la Ferrari il problema è un altro è che questo contratto viene firmato sotto certe circostanze molto specifiche che non nascono per la pura voglia di correre per il cavallino ma nascono per ragioni politiche adesso vi spiego il perché Fangio riceve la chiamata da parte di Maranello di Enzo Ferrari poi lui tornerà in Argentina correrà in Venezuela nella pausa per tenersi un po' nell'allenamento per delle gare che non valgono per il campionato ma nel 55 noi siamo nel 56 quindi un anno prima succede il patatracchi il finimondo in Argentina perché il governo populista di Juan Perón parentesi Juan Perón era il presidente dell'Argentina amico di Fangio colui che nel 53 decise di aprire i cancelli al Gran Premio dell'Argentina alle persone che avevano pagato il biglietto e persone che non avevano un biglietto e succede poi il finimondo con incidenti morte se non vi ricordate vi rimando al video sempre qui in sovrimpressione precedente che ho fatto sugli anni 50 comunque il governo popolista di Juan Perón è stato completamente rovesciato la giunta militare cosa fa? stila una lista nera ok lista nera tra virgolette di persone che devono dare delle spiegazioni perché sono state viste in presenza di Juan Perón o perché erano amici di Juan Perón poi tra l'altro Fangio era anche all'apice dello sport in Argentina quindi deve dare delle spiegazioni Fangio torna perché non ha niente da nascondere torna in patria e passerà tutta l'estate in libertà vigilata quindi una situazione molto delicata e complicata cosa fa? deve avere una motivazione una ragione per uscire dall'Argentina e scappare da quel putiferio ovvero il contratto con Ferrari che tra l'altro aveva un ingaggio molto basso quindi non ci sono ragioni economiche dietro da parte di Fangio ma proprio un'esigenza di sopravvivenza sposa diciamo il contratto e la proposta di Enzo Enzo invece aveva bisogno di un pilota vincente era Fangio in quei tempi un po' come se oggi Hamilton avesse firmato diciamo con la rossa buttiamoli questo compare il problema è un altro perché questo rapporto nasce già in crisi tra l'altro vi do questo spoiler alla fine della sua carriera Fangio poi scriverà questa biografia che in realtà non l'ha scritta lui l'ha scritta il manager l'ha scritta la fidanzata e parlerà malissimo della Ferrari perché parlerà malissimo della Ferrari di Enzo perché lui ha vissuto l'esperienza in rosso con grandi dubbi pensava che il team lo stesse sabotando non si fidava insomma delle situazioni un po' complicate che trovano una sua veridicità in due gran premi il gran premio di Spa e il gran premio dell'automobile crepe di Francia nel 1956 Fangio era compagno di squadra di Peter Collins pilota giovane 25 anni inglese al gran premio di Spa cosa succede? Fangio ha un problema al differenziale mentre Collis è lì pronto a vincere diciamo a strappare la vittoria Fangio non crede molto in questo problema al differenziale quindi cosa fa? compie alla fine della gara un ulteriore giro per controllare se nel tracciato ci sono delle macchie d'olio che andranno poi a giustificare in teoria la rottura del differenziale ok lui non troverà nessuna macchia quindi dirà non trovo nessuna macchia i suoi dubbi aumenteranno sempre di più nella testa e troveranno il culmine nell'automobile crepe di Francia perché la gara parte la Ferrari ha Vincenti la davanti Castellotti il pilota italiano Peter Collins e Fangio stesso Fangio però avrà un problema al motore si riempirà di benzina la sua tuta quindi zuppissimo di benzina tra l'altro uno scenario molto pericoloso inutile che lo ribadiamo andrà ai box gli metteranno gli sistemeranno le situazioni meccaniche gli piegheranno del tempo ovviamente e nel mentre arriverà un ordine di scuderia Castellotti che era in pole il pilota italiano con la Ferrari lancia dovrà far passare Peter Collins Fangio Ferrari macchina italiana e c'è un pilota italiano là davanti vogliono far vincere un pilota inglese motivazione economica la Ferrari in quel momento voleva puntare sul pilota inglese perché c'erano dietro delle volontà da parte dell'azienda di puntare a quel tipo di mercato mentre Fangio non era interessante sotto questo punto di vista perché nel mentre con tutto quello che era successo col presidente in Argentina avevano chiuso l'importazione di vetture che non erano prodotte in loco Ferrari non poteva vendere niente in Argentina quindi Fangio ha tutti questi grandissimi dubbi il 1956 un anno che ribalterà completamente la vita di Enzo Ferrari perché lui perse in quell'anno il figlio Dino aveva 24 26 anni adesso non ricordo lo perse perché era vittima di distrofia muscolare una malattia per lo più sconosciuta all'epoca cambierà completamente e lo segnerà per il corso della vita ovviamente la perda di un figlio e arriviamo al gran premio di Monza che è il gran premio finale si decreta il vincitore la cosa interessante è che Fangio ha 8 punti in più rispetto a Peter Collins quindi la vittoria andrà in casa Ferrari ma in che in che mani andrà pilota inglese o pilota argentino lo scopriamo subito e tra l'altro questo gran premio rimarrà nella storia perché ora non lo so sto studiando con voi la storia della formula 1 ma forse non vedremo più una situazione e un gesto del genere Fangio ha dei problemi parte la gara Fangio ha dei problemi si deve ritirare Peter Collins che era in testa quindi sta per vincere il titolo va ai box per una sosta e vede Fangio con le mani concerte sul moretto delusa franto capisce subito che Fangio non avrebbe vinto il titolo e il titolo sarebbe arrivato a lui il primo titolo della storia per Peter Collins però ha talmente onore talmente rispetto talmente ammira questo maestro che ha scritto la storia della formula 1 nei primi anni che decide di senza ordini di scudria decide di dargli la sua monoposto e di far andare a vincere poi Fangio e Fangio questa è la motivazione che c'è dietro questo gesto di Peter Collins è perché Peter Collins aveva 25 anni avrebbe avuto nel futuro altre possibilità di vincere il titolo mentre Fangio aveva 45 anni e sarebbe stato il suo terzo titolo di fila e poi non avrebbe avuto grandi possibilità nel futuro quindi da questa monoposto al maestro il maestro che è Fangio che dirà poi che questo fu un gesto meraviglioso di conseguenza il campione del 1956 con la Ferrari Lancia di 50 fu Fangio parte il 1957 con Fangio che scioglie il contratto con Ferrari per ovvie ragioni che abbiamo capito qualche minuto fa e firma con Maserati dall'altra parte invece Sierra Le Mossa firmerà con la Vamba la Vamba è un team inglese ricordatevi questo nome e in tutto ciò ovviamente Enzo Enzo Ferrari vive un momento molto tragico ha appena perso il figlio di 24 anni e inizia un periodo duro per lui indosserà sempre una cravata nera in sembolo di lutto avrà sempre con lui con sé una fotografia del figlio e lui dirà in continuazione che si alzerà ogni mattina con la morte in tasca è un periodo molto molto duro e molto rigido però parte la Formula 1 e con il Gran Premio di Silverstone abbiamo una una vittoria importante che segna un po' la storia perché vincerà Stirling Moss pilota inglese con la Vanval e la Vanval è un team appunto nato da gay Anthony Van der Vel che è un facoltoso industriale britannico che ha sempre voluto un po' togliersi lo sfizio di fare questo team in Formula 1 e che precedentemente era stato un pilota anche bravo di automobili e motociclette lui cosa fa? acquista le Ferrari da Enzo e le pittura e le colora di verde britannico e poi le schiere in pista tra l'altro quella che schiererà in pista sarà la terza perché le prime due non si fidava cioè diceva no secondo me insomma le ha date un po' fasulle e quindi la terza poi la schiererà in pista e la cosa interessante di quell'anno è che poi nel Gran Premio della Germania Fangio riuscì a mettere a segno una vittoria straordinaria e si sentì quasi illuminato nel corso del Gran Premio e fu un'annata chiusa con la vittoria di Fangio al titolo con la Maserati 250F ve la faccio vedere qui la monoposto e ricordatevi questo anno e questo modello perché la Maserati faccio adesso un'asse temporale tra il passato e il presente sapete che Maserati oggi entrerà nella Formula E Maserati che ha vinto un campionato di Formula 1 nel 1957 e ha vinto anche due edizioni della 500Miglia di Indianapolis nel 39 e nel 40 quindi un palmarès molto ricco adesso si butteranno anche in questa nuova avventura della Formula E ma molto importante che il 57 è l'ultimo titolo vinto da Fangio ha vinto nel 51 dal 54 al 57 con tantissime monoposto di diverse team e fabbriche e dal 58 al 59 avremo tutto un cambio quasi generazionale all'interno della Formula 1 preparatevi al 1958 è stato l'anno più buio della storia della Formula 1 avvincente allo stesso tempo però tragico molto particolare io quando leggevo il libro e studiavo mi sono commossa perché è stato un rollercoaster un'altalena un up and down di emozioni spero di farvele arrivare anche oltre lo schermo allora partiamo dal questo dopo Fangio ora scoprirete perché il 1958 parte con il ritiro di Maserati e di Pirelli Maserati si ritira perché devono sistemare i debiti sono indebitati fino al collo e devono appunto sistemare queste situazioni finanziarie passo indietro da parte della Maserati passo indietro anche da parte della Pirelli che per altre motivazioni decide di non partecipare più alla Formula 1 loro avevano vinto i mondiali con la Romeo con Ferrari con Maserati quindi un palmarès eccezionale e decidono di impiegare la parte finanziaria economica e la forza lavoro in un'altra maniera in tutto ciò Fangio rimane un po' senza scuderia senza team e si guarda un attimo intorno e nel mentre decide di partecipare alla 500 mili di Indianapolis che è sempre stata un po' l'ambizione di tanti forse non molto di Fangio adesso vi spiego anche perché la scelta di partecipare alla 500 mili di Indianapolis nasce da la virtù dalla voglia del suo manager Gian Bertone lo stesso che poi scriverà l'autobiografia di Fangio parlando molto male di Enzo Ferrari dell'esperienza di Fangio con la rossa tra l'altro è giusto per fare qualche collegamento tutto era nato dal fatto che il direttore di una rivista americana molto famosa relativa della 500 mili di Indianapolis aveva lanciato una provocazione a Fangio dicendogli che lui non era un vero campione perché non aveva mai corso sul tracciato dell'Indiana quindi Gian Bertone il manager decide di far partecipare Fangio fu un'esperienza avvilente un po' una scari dura vendetta non so se ve la ricordate comunque vi lascio sempre qua il video per guardarla e in Fangio iniziano questi dubbi questi pensieri ma forse mi devo ritirare forse qui forse là arriva poi il gran premio dell'automobile club di Francia e dopo due avvenimenti che adesso vi spiego Fangio deciderà definitivamente di ritirarsi dalla scenario della formula 1 il primo è questo episodio con Mike Hawthorne perché Mike pur di non sorpassarlo di doppiarlo decise di alzare il piedale e rimanere dietro al pilota argentino ok Fangio in quel momento dice è stato un un gesto tanto bello tanto tagliente per me perché cavolo ho vinto così tanti titoli non sono più competitivo come una volta e l'altro ancora più grave sarà la morte di Luigi Musso dopo il gran premio il club di Francia Fangio deciderà quindi di chiudere la sua parentesi con la formula 1 siamo appunto in quella in quel della Francia e muore Luigi Musso e il dopo Fangio quindi Fangio si è ritirato e il 1958 il 1959 saranno anni molto interessanti perché arrivano le nuove leve cioè è il momento dei ragazzetti un po' come oggi in formula 1 diciamo così e il titolo era combattuto tra Luigi Musso Mike Hawthorne Peter Collins tutti e tre i piloti Ferrari tra l'altro e poi anche Stirling Moss Luigi Musso era l'unico pilota italiano rimasto in griglia perché Castellotti pilota italiano era morto un anno prima nei test a Modena quindi ha un po' il peso di essere di dover dimostrare non solo al popolo italiano ma anche alla rossa e in Francia perderà la vita perché entrerà dopo questo lungo rettilineo c'è una curva nel tracciato tutto a destra una curva veloce molto lunga lui sul consiglio che gli aveva dato Fangio entrerà ad una velocità eccessiva perderà completamente il controllo dalla monoposto che andrà con due ruote sull'erba e aveva anche diciamo l'esigenza di stare attaccato a Mike Hawthorne perché essendo comunque il suo compagno di squadra però c'era la lotta per il titolo perderà la vita in pista Mike Hawthorne scoprirà questa cosa soltanto in ospedale e sulla morte di Luigi Musso si diranno tantissime cose tante supposizioni alcuni diranno che era completamente al verde non aveva più soldi aveva sperperato tutto il denaro nel gioco e quindi aveva l'esigenza di dover vincere quella gara per forza perché in quel gran premio veniva al vincitore veniva dato una borsa di 10 milioni di franchi quindi aveva bisogno di sistemarsi da quel punto di vista Mike Hawthorne invece disse che Luigi Musso aveva sempre vissuto dopo la morte di Castellotti la responsabilità dettata dalla Ferrari dai media dal popolo italiano stesso e sai quell'esigenza di dover dimostrare a tutti i costi e poi vai oltre il limite e la cosa importante da dire è che chiusa la parentesi di Luigi Musso che appunto correva con Ferrari inizia continua un campionato ripeto molto interessante ma la Formula 1 non è pronta a perdere altri protagonisti arriviamo al gran premio del Nürburgring e ora i contendenti sono Mike Hawthorne Peter Collins sempre con Ferrari e loro erano tra l'altro anche molto amici e poi c'era Stirling Moss siamo al Nürburgring come dicevo e purtroppo Peter Collins perse la vita perse la vita perché entrò con troppa fogo in una curva perso il controllo della monoposto e si schiantò negli alberi una lesione gravissima alla testa lo portarono in un ospedale e morì proprio in ospedale Mike Hawthorne anche qui scoprì tutto in ospedale perché una volta in Formula 1 soprattutto in quegli anni non la davano né in radio né in televisione e non c'erano anche i collegamenti tra una postazione e l'altra quindi Mike Hawthorne si fermò scese dalla monoposto chiese informazioni ma nessuno sapeva niente Mike Hawthorne era molto legato a Peter Collins che era un amico ma era un fratello praticamente anche lui pilota Ferrari e c'è stato questo ulteriore lutto nel 1958 in Formula 1 un aspetto molto importante di quell'annata di quella stagione è che fu il primo anno ufficiale dove alla fine della stagione si disegnava un pilota vincitore e il titolo costruttori per la prima volta in maniera ufficiale quindi ricordatevi il primo titolo costruttori ufficiale per la Formula 1 questo titolo lo vinse la Van Val ok quindi la scudria inglese siamo al Gran Premio del Portogallo e Mike Hawthorne alla fine della gara nel giro di rallentamento diciamo accosta perché la sua macchina non ha più freni quindi lui scende dalla macchina e inizia a spingere una manovra che dopo la premiazione dopo tutti i procedimenti viene considerata illegale da parte di un commissario il tutto si porta in tribunale dove Mike Hawthorne deve parlare di questa situazione dove ci sarà il commissario e l'ago della bilancia che aiuterà Mike Hawthorne sarà proprio Sterling Moss che tra l'altro Mike Hawthorne rischiava la squalifica con i punticelli a Sterling Moss che vivano anche eventualmente per la vittoria del titolo però anche qua non so nella Formula 1 moderna se potrebbe mai succedere una situazione del genere Sterling Moss scaggionò Mike Hawthorne dicendo che non aveva assolutamente fatto niente di legare quindi Mike Hawthorne non venne squalificato e il titolo 1958 andrà nelle sue mani il primo pilota inglese a vincere un titolo il primo pilota inglese a vincere la prima vittoria di Formula 1 al tracciato di Reims in Francia questo è Mike Hawthorne ve lo faccio ve lo mostro qui nelle immagini tra l'altro proprio qualche giorno fa sono andata al museo di Maranello Mike Hawthorne era famoso per questo caschetto verde giubbottino verde camicia bianca un pilota molto elegante che però correva per sbago per hobby lui non voleva diventare il pilota più grande della storia della Formula 1 non aveva quell'ambizione ad esempio come Fangio voleva semplicemente divertirsi motivo per il quale ha sempre firmato dei contratti annuali perché non voleva impegnarsi nell'attività in maniera diciamo successiva nel corso degli anni era molto amico di Peter Collins quindi fu anche un anno molto difficile per lui e l'assurdità è che dopo un mese dalla sua vittoria perderà la vita in un incidente stradale nelle vicinanze di Londra e ovviamente l'Inghilterra fu scioccata da questa perdita da questa morte perché lui era considerato un dio era considerato davvero l'eroe della patria lo amavano tutti ci furono questi giornali con dei titoli a tutta pagina della sua morte e molti non sapevano che in realtà il destino il suo destino è stato segnato da una morte in pista cioè da una morte in strada pardon però lui aveva un solo rene era malato e i dottori i medici gli avevano dato 5 anni di vita lui lo sapeva ma non l'aveva detto praticamente a nessuno di conseguenza la sua strada sarebbe era comunque già in un certo modo segnata ed è andata così però Mike Cothron è un pilota che mi è rimasto davvero nel cuore di quegli anni ed è il mio preferito e questo è stato purtroppo il bello e il brutto e il negativo del 1958 tra l'altro la cosa assurda è che era una Formula 1 abituata alla morte sapevano in quanti partivano in griglie ma non sapevano in quanti arrivavano forse noi oggi la morte in Formula 1 la diamo un attimino per scontata anche se l'abbiamo vissuta con Julio Bianchi con Antoine Hubert nelle formule minori però hanno fatto dei grandissimi passi in avanti nei confronti della sicurezza e quegli anni della Formula 1 erano dettati anche purtroppo dalle perdite di grandi personaggi che hanno scritto la storia di questo sport chiusa questa triste e dura parentesi del 58 aprite la mente e le braccia verso la rivoluzione sto parlando del 1959 perché se prima del 59 le monoposto erano formate da questo motore che era nella parte dell'avantreno quindi era davanti al pilota ora diamo il benvenuto alla Cooper Climax T43 che ve la faccio vedere a tutto schermo il nome Climax appunto deriva dal motore stesso questa macchina è la vanguardia è la rivoluzione proprio perché il motore è stato inserito nella parte centrale della monoposto quindi questo cosa comportava in pista che la parte più pesante della macchina era la zona centrale questo consentiva di scaricare ancora di più in maniera migliore diciamo i cavalli al suolo la parte dell'avantreno quindi la parte davanti l'anteriore era molto scarico era molto maneggevole sia e veloce di conseguenza sia nelle percorrenze di curva che nell'accelerazione c'era un'usura minore per quanto riguarda gli pneumatici e il fatto che il motore fosse inserito dietro al pilota quindi alle spalle del pilota però davanti all'asse posteriore consentiva appunto al pilota anche stesso di inserirsi nella monoposto in maniera un po' più bassa quindi la macchina rispetto alle altre era più bassa più filante molto 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 competitiva il 59 è stato un anno diviso tra Jack Bramham segnatevi questo nome a caratteri cubitali in rosso nel quaderno degli appunti perché scriverà la storia anche degli anni 60 adesso vedrete perché e dall'altra parte abbiamo Sirlin Moss Sirlin Moss bisogna dire una cosa cioè stava come se non ci fosse un domani perché lui è stato vice campione per anni sempre arrivato secondo non vincerà mai un titolo di formula 1 ebbene sì tra l'altro nel 59 sceglierà di non correre con nessun team proprio con nessun vera e proprio scuderia questo sarà un grave errore ecco siamo tutti bravi però sarà un grande errore perché lui cosa farà sceglierà di correre con Rob Walker che era un privato non aveva un team lui comprava le vetture che secondo lui in quello momento erano le migliori e le andava in pista quindi Sirlin Moss ha corso con tutte le vetture immaginabili possibili nel 59 il problema è che poi non riuscivi a svilupparla nel corso dei gran premi nel corso durante la stagione quindi era un po' un'arma a doppotaglio finché poi non hanno capito che la Cooper Climax T43 era la macchina migliore e hanno preso quella e hanno concluso con quella il titolo l'ha vinto Jack Bramman nel 59 con il titolo con la Cooper e il titolo costruttori è andato alla Cooper stessa Jack Bramman veniva chiamato anche Black Jack questo non è un po' un po' particolare Black Jack lui era australiano e è diventato campione campione del mondo di Formula 1 è arrivato in Inghilterra e anche lui ha favorito a questo sviluppo e alle ideazioni di questa monoposto vincente che era la Cooper perché lui era molto attento anche dal punto di vista della meccanica ne sapeva davvero tanto e questo infatti la dirà a lunga perché poi negli anni 60 diventerà un costruttore era davvero multitasking questa quindi ragazzi è stata la chiusura degli anni 50 fatemi sapere nei commenti che episodio vi ha colpito di più di questi anni che pilota vi è rimasto più impresso nel cuore diciamo grazie davvero per tutte quelle persone e te compreso che sei rimasto qui a guardare fino all'ultimo minuto il video io vi aspetto nei commenti e se volete rimanere aggiornati e sul pezzo iscrivetevi al canale seguitemi su tutti i social perché continueremo a parlare di storie della Formula 1 ci approccieremo agli anni 60 ma al tempo stesso parleremo di futuro del 2022 di quella stagione che sta per iniziare quindi io vi aspetto qui e ovunque ciao ciao